la ho già fatto questo ingresso due volte ma mi ha scrocchiato un ginocchio quindi ho voluto rifarlo perché è un po' strano cioè nel senso, ho 22 anni e le articolazioni di un 85enne per cui vabbè bentornati, benvenuti sul mio bentornati nel mio canale youtube e non ci si vederà un po', dico bene? mi sa che non carico video, era tipo più di un anno però ho detto non voglio fare la solita cosa per cui devo una volta all'anno perché ho in mente questo obiettivo, voglio portarla a termine, devo semplicemente registrare tot video e postarli voglio farlo con calma, voglio farlo in un posto diverso dal solito per cui sono venuto nella casa al mare dei miei nonni, in Liguria il fatto è che ho passato le scorse due ore a incazzarmi a incazzarmi perché stavo settando le inquadrature, piazzando le luci l'inquadratura era più larga, c'era più finestre inquadrate e quindi più riflessi oltre ai riflessi c'erano anche le luci stesse che mi creavano più ombre fastidiose che luci belle per cui stavo smattando e poi a una certa mi sono detto ma perché sono venuto fin qui a 160 km da Milano, una roba così, non mi ricordo esattamente la distanza ma perché ho fatto sto viaggio e ho detto non registro nella mia solita stanza dove le luci sono già fisse lì come sono, non devo schiacciare nient'altro se non registra e poi ho detto non è per avere l'inquadratura perfetta, l'audio perfetto sto registrando con un microfonino da 50 euro, non so neanche se ci sarà l'audio il motivo è vero per cui sono venuto fin qui è la spontaneità che questo posto mi crea quanto mi fa stare bene stare in questa casa per cui eccoci qui, vorrei brindare con voi all'inizio di questa terza stagione per cui ho preso una peroni, mi sto lentamente trasformando in panetti c'è questa metamorfosi che sta pian piano avendo corso nella mia vita infatti entro 2024 penso che sarò totalmente pelato almeno questo è il piano però a parte le stranzate, benvenuti nella terza stagione del mio canale YouTube la premiere di Spider-Man No Way Home si è tenuta durante il Covid e Willem Dafoe si è recato lì con una mascherina verde la famosa battuta di Lady Gaga in House of Gucci nel nome del padre, del figlio e della famiglia Gucci è stata in realtà improvvisata proprio dall'attrice il prossimo fan fact è davvero spezzevole e riguarda Don't Look Up Jennifer Lawrence ha girato la maggior parte delle sue scene con un dente rotto e non poteva farselo sistemare per alcune restrizioni dovute alla pandemia per cui tipo nel 90% delle scene quel dente rotto e mancante è stato sostituito in CGI ma che cazzo? tutti sappiamo che Hans Zimmer è tipo il dio delle colonne sonore e per quanto riguarda Dune una delle poche cose che effettivamente salvo del film è proprio il lavoro svolto a livello musicale dallo Zuhans quello che forse non sapete è che Zimmer ha passato tipo una settimana nel deserto dello Utah a cercare di assimilare i suoni di quel tipo di paesaggio per farsi ispirare nella creazione del tema musicale del film Matt Reeves, sceneggiatore e regista di The Batman ha dichiarato che mentre scrive al film ascoltava in loop una canzone tratta dalla colonna sonora di Taxi Driver Come On Come On è stato girato in ordine cronologico Tom Holland ha raccontato che non si era reso conto di quanto fosse comodo essere Spider-Man perché Spider-Man indossa una maschera perché tutte le volte che il supereroe si lancia e vola, viaggia, sballonzola tra un palazzo e un altro è al 99% CGI mentre quando ha girato Uncharted il personaggio di Nathan indossa una maglietta e dei pantaloni cargo per cui non è che puoi falsare questa cosa e rimetterla cioè è molto più difficile per cui ha fatto la maggior parte delle scene d'azione effettivamente fisicamente le ha fatte lui per cui quel film lo ha distrutto e ha detto cazzo, quasi rimpiango di quando ero Spider-Man Fan fact, Tom Holland, te lo dico così da amico perché so che ci guardi sempre il personaggio di Nate in Uncharted è comunque uguale e identico a quello di Peter Parker quindi non hai fatto un gran lavoro di caratterizzazione forse proprio perché eri troppo stanco a lanciarti di qua e di là però è rip la produzione di Matrix Resurrection che io personalmente ancora non ho mai visto perché mi è bastato vedere la reazione di Mike Wonder per cui non penso che lo guarderò a meno che non mi costringano a guardarlo tipo Arancia Meccanica è iniziata a febbraio 2020 con il nome in codice Project Ice Cream progetto gelato parliamo adesso di un altro dei tanti film, degli innumerevoli film che durante lo scorso anno mi hanno lasciato particolarmente deluso No Time To Die per quanto mi riguarda è la più indegna conclusione del percorso di 007 con Daniel Craig fa veramente sboccare hanno sprecato Rami Malek come Villain insomma fa vomitare per svariati motivi che non sto qui a raccontarvi ma ha delle belle location e forse non sapevate che la location di Matera, quella iniziale era in realtà già stata presa in considerazione nel 2008 per quanto Motsolas a quanto pare Simu Liu e non so come si pronunci questo nome raga ci ha provato 10 volte però è l'attore protagonista di Shang-Chi ha tweetato taggando la Marvel a dicembre 2018 scrivendo mi mettete in un vostro film e a luglio 2020 ha fatto un altro tweet ritaggando la Marvel e ringraziandoli per averlo scelto parlando adesso di King Richard no non c'è bisogno di rivangare quella cosa ha già fatto il suo corso su internet torniamo a parlare del film Will Smith ha deciso di dividere 40 milioni di dollari di guadagni suoi del film tra tutti gli altri attori del cast come bonus per loro per ringraziarli e ora qualche fan fact su una delle mie serie preferite di sempre Scrubs molte delle performance attoriali in Scrubs sono improvvisate addirittura Bill Lawrence, creatore della serie sostiene che Neil Flynn, che interpreta l'inserviente non abbia mai detto neanche una delle battute che erano scritte sul copione ovviamente è un'esagerazione però esisterà qualche parte un copione di una puntata della quarta stagione in cui al posto delle battute dell'inserviente c'era proprio scritto whatever Neil says, qualsiasi cosa dirà Neil perché tanto sapevano che avrebbe detto qualcosa di suo improvvisando ed è bellissima questa cosa il dottor Cox chiama sempre J.D. con nomi femminili beh in realtà l'attore che interpreta Cox, John McGinley fa spessissimo questa cosa nella vita reale col suo amico John Cusack cioè lo chiama con nomi noli femminili che spezzo vorrei essere lì per vederli Sara Ciolk ha utilizzato lo stesso camice che indossa in Scrubs anche in Now I Met Your Mother dove interpreta una dermatologa di nome stella ecco, lì utilizza delle penne infilate nel tastino per coprire la targhetta con scritto Elliot anche se ha recitato nel ruolo di Maria di West Side Story in diverse produzioni teatrali l'ingresso di Rachel Zegler nel cast di Spielberg è stata la prima vera esperienza cinematografica e a detta di Spielberg, proprio testuali parole non c'è mai stata una Maria così perfetta John Cena, studiando il personaggio di Peacemaker per la Suicide Squad di James Gunn lo ha definito un Captain America in versione coglione e come dargli torto avete visto Afterlife? beh, spero l'abbiate apprezzata almeno la metà di quanto l'ho apprezzata io che in realtà, boh, la seconda stagione è tipo uguale alla prima però la terza è molto carina, una degna conclusione molto, molto simpatica tutto sommato come serie beh, forse non sapevate che il secondo nome della moglie del protagonista, Tony, è Jane che è il nome della compagna di Ricky Gervais nella vita reale ora invece un aneddoto riguarda uno dei miei film preferiti dello scorso anno vale a dire Tic Tic Boom molti di voi forse già lo sanno ma Andrew Garfield ha studiato per tipo un anno allenando la voce e imparando a cantare apposta per il film e wow, cioè io in un anno non arrivo a cantare così tanto bene tanta roba, GG per Andrew oltre a dover imparare a fare gli stunt al contrario gli attori di Tenet hanno anche dovuto imparare a parlare al contrario e non solo, non si ferma qui la cosa perché Kenneth Branagh, che è del, ricordiamo, del nord dell'Irlanda, di Belfast non solo ha dovuto imparare a parlare al contrario, a fare gli stunt al contrario lui parlava al contrario con l'accento russo adesso il ritmo come cazzo si fa a parlare in reverse con l'accento russo dai, fammi un esempio e aggiungo una piccola parentesi questo non è tanto per dare un GG a Kenneth Branagh che nel senso, bravo lui, tanto di cappello sicuramente non è stato facile imparare a fare questa roba però è più per dire, Nolan, che cazzo ti fumi? ora parliamo di una delle serie più fighe che abbia visto in giro ultimamente si chiama Come vendere droga online in fretta? mi pare, in realtà sono tante parole, non mi ricordo mai enti dello giusto però è una golosissima produzione tedesca per Netflix ecco, i geni della produzione che poi sono effettivamente geniali su un po' di aspetti quando dovevano scegliere il nome dello spacciatore hanno cercato online nomi di albanesi e hanno detto, bella, scegliamo Bubba che è un gran nome, fa, è bello, è un bel nome, funziona e dopo aver iniziato la produzione hanno scoperto che Bubba l'attore che interpreta il protagonista di questa serie di nome Moritz in realtà era lì per l'audizione di Lenny all'inizio e stava già tornando in stazione stava andando se ne via dall'audizione quando i produttori l'han richiamato e gli hanno effettivamente dato il ruolo di Moritz per poter recitare in Sound of Metal Riz Ahmed ha imparato il linguaggio dei segni e ha anche imparato in sei mesi a suonare la batteria e parecchio bene tra l'altro il paesino di Porto Rosso in cui si svolge Luca appare su una locandina di una compagnia di viaggi nel precedente film della Pixar, Soul e il prossimo easter egg riguarda proprio Luca perché sappiamo che la Pixar impazzisce nel fare certi riferimenti ipersottili sul treno alla fine sono presenti le cifre 9 4 6 0 8 altro non è che il codice postale di Emeryville, California dove si trovano gli headquarters della Pixar ma non l'abbiamo finito ecco un altro easter egg sempre riguardante Luca perché sapete che di quel film mi sono proprio innamorato durante la gara conclusiva in secondo piano è presente una pecar con la livrea di Pizza Planet ricorderete bene di cosa si tratta quella tamarrata assurda di Nobody è costruita su un'idea di Bob Odenkirk il quale nella vita reale ha cercato di risolvere un caso di effrazione in casa sua intrappolando diciamo i ladri in cantina e poi siccome non è rimasto molto soddisfatto di come le autorità hanno gestito la situazione ha detto no io voglio immaginarmi un film quindi una situazione fittizia in cui però risolvo le cose a modo mio cioè più da badass infatti nel film picchia chiunque ad estra manca facendo male a un sacco di gente però è un capolavoro di film al contempo è molto difficile come situazione è in binico proprio Fleabag è il titolo di una meravigliosa serie che trovate su Amazon Prime però è anche il nome che la famiglia di Phoebe Waller-Bridge scenegiatrice, regista e attrice protagonista di questa serie le dava da piccola ora parliamo di Free Guy questo meraviglioso film è ambientato in una città di nome Free City ecco Free City è ispirata a Liberty City di GTA 3 e GTA 4 a sua volta la Liberty City dei videogiochi è ispirata a New York in Fast and Furious 9 a 1 ora e 42 minuti c'è il figlio di Vin Diesel che interpreta a Dom da piccolo tra le primissime audizioni per i ruoli di Rick e Morty Brian Cranston si propose per interpretare Jerry poiché il progetto nelle sue fasi iniziali era segretissimo Finn Wolfhard ha svolto la sua audizione per Ghostbusters Legacy senza avere la mini media di quale fosse il film per cui stava facendo l'audizione la prossima curiosità riguarda The Last Duel Ben Damon aveva difficoltà a far crescere la barba per cui il reparto trucco e costumi gli ha provato tipo 20 barbe diverse prima di trovarne una che facesse a caso suo ma questa non si è rivelata comunque la migliore delle soluzioni perché poi ha sviluppato un'infiammazione a tipo mezza faccia per cui dopo ogni take doveva essere trattato col ghiaccio praticamente è lo stesso destino a cui andrei incontro io se dovesse interpretare un personaggio con la barba è il destino di noi eterni adolescenti qualche pazzoide guardando le office si è messo a fare due calcoli e ha stimato che Jim per prendere per il culo Dwight e fargli tutti gli scherzi che gli fa durante la serie ha speso all'incirca tra i 7.000 e i 10.000 dollari qui leggo un paio di numeri se no non ce la faccio The Friend Dispatch è tipo la settima collaborazione tra Wes Anderson e Jason Schwarzman la sua ottava collaborazione con Owen Wilson e la sua nona collaborazione con Bill Murray pensate quanti cazzo di film hanno fatto insieme a questi meravigliosi individui durante la preparazione di una scena di inseguimento in macchina in Red Notice Dwayne Johnson è rimasto incastrato più volte nella Porsche non riusciva a entrare e uscire in modo normale perché è fottutamente troppo grosso la roccia è proprio enorme per cui hanno dovuto combinare un po' di inquadrature e sistemare le cose in post-produzione per far sembrare la scena un pochino più naturale Will Arnett, doppiatore di Bojack Horseman ha letto che durante tutta la sua carriera il ruolo più difficile è stato proprio quello di Bojack e che talvolta tornando a casa portava addirittura con sé la pesantezza, l'oscurità, la depressione del personaggio su dichiarazione dello stesso Paolo Sorrentino riguardo a È stata la mano di Dio fu proprio il Roma di Alfonso Cuaron che lo ispirò a creare una storia molto personale parlando della propria adolescenza e della propria infanzia per poi traslare sull'universale una storia che in realtà di partenza è molto personale per Mother Android e di Netflix Chloe Grace Morris doveva imparare cosa volesse dire essere madre per cui ha fatto un sacco di cose in preparazione al film dal parlare con un sacco di donne incinte al frequentare un reparto maternità in un ospedale fino a cambiare pannolini che ovviamente è l'attività che le è piaciuta di meno beh, ci sta il suono del claxon che Cruella suona davanti alla prigione è lo stesso identico suono del claxon della macchina di Crudelia de Mon nella carica di 101 ora, tre fan fact su uno dei miei film preferiti in assoluto Swiss Army Man per il film è stato creato un fantoccio di Nanny anche se in realtà Radcliffe ha insistito per prendere parte a praticamente tutte le scene quindi il fantoccio è stato usato giusto in un paio di inquadrature in cui gli istanti erano troppo pericolosi per l'attore però era comunque sempre Daniel Radcliffe a lanciare il manichino Daniel stesso ha dichiarato che questo è il suo preferito tra i film in cui ha recitato il regista era molto indeciso su che direzione far prendere al film se più verso il survival o più verso il film artistico e alla fine ha deciso no strutturiamola più come una commedia romantica però la più bella commedia romantica mai fatta probabilmente anche perché è la più strana ora parliamo di un gioiellino nel vero senso della parola tra l'altro forse è la migliore interpretazione di Adam Sandler sto parlando di Uncut Gems i registi, i fratelli safety tenevano così tanto a girare con la pellicola 35mm che hanno dovuto tagliare via una parte del loro salario Samara Weaving che recita al fianco di Daniel Radcliffe in Guns Akimbo hanno un tatuaggio dei noni della morte invece di avere due figli maschi il protagonista di Amanda Round, un altro giro avrebbe dovuto avere un figlio e una figlia a interpretare la figlia sarebbe dovuta essere la figlia di Thomas Witterberg il regista, che purtroppo è morta in un incidente stradale quattro giorni prima di girare il film è dedicato a lei quando hanno chiesto a Waititi perché ha deciso di interpretare lui stesso Adolf Hitler in Jojo Rabbit lui che è maori slash ebreo ha risposto beh, quale miglior modo di mandare affanculo quel tipo? geniale, Taika Waititi è tipo il mio role model ora parliamo di Sto pensando di finirla qui una gollosa produzione a Netflix secondo quanto racconta il regista Charlie Kaufman quelli di Netflix avevano molta paura che girando il film in 1.37 a 1 quindi verso il quadrato stile vecchio televisore il pubblico a casa non avrebbe capito e sarebbe rimasto tipo ma chi è qualcosa di sbagliato con la mia televisione? grazie signori di Netflix è sempre bello sapere che avete questa altissima considerazione di noi del pubblico a casa insomma, gg anche qui mi leggo qualcosa altrimenti mi dimentico quando le riprese di A Woman and Your Mother sono finite Josh Redd non era tenuto con sé il corno blue mentre nel Patrick Harris si è portato a casa il playbook e in più tre bellissimi ombrelli gialli adesso appartengono a Pamela Fryman la regista e i due creatori della serie Craig Thomas e Carter Bass il prossimo fanfactor riguarda un film che ancora non ho visto ma quando l'ho letto ho letto devo dirlo nel video perché questa curiosità mi ha fatto venire voglia tantissimo di guardare questo film perché voglio sapere dove, quando e come è successo durante le riprese di Jackass Forever Steve si è provocato la peggior commozione cerebrale della sua intera vita e veramente muoio dalla voglia di vedere questa scena Steven Spielberg è stato citato come reference per Doctor Strange Multiverse of Madness ed è con questo fanfactor ragazzi che siamo giunti al termine delle 50 curiosità di oggi per cui vi esorto a lasciare un like e iscrivervi al canale perché raga di fatto non sono più abituato a registrare video così lunghi e così impegnativi non so quanto sarà uscito lungo, probabilmente 10-15 minuti se esageriamo se no anche tipo 8, non lo so, dipende dall'editing però ho registrato per tipo 2 ore filate come vedete fuori è notte fonda, sono le 10 di sera io non ho ancora mangiato quindi adesso andrò direttamente a morire a dormire, piccolo lapsus e a parte le stronzate vi ringrazio veramente per aver visto il video fino a qui ci vediamo domenica prossima alle 18 lasciate un like e iscrivetevi al canale per supportare questi grandi sforzi e niente, alla vostra ciao 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 ciao